roma intera Grazie a tutti. E' la cultura, è l'arte, è che la cultura non è un privilegio, è un diritto di tutti. Siamo noi il 99% che produciamo oggi giorno la ricchezza e l'ora il 1% che si mangiano i nostri soldi. Siamo qui oggi per riprenderci i soldi che qui ci derubano. Ce li riprendiamo ogni giorno al Ciro del Cazzo, dentro al Teatro Alle, al Teatro Marinoni, al Lito di Ostia, in tutti i disposti che autogestiamo e occupiamo. Rivegliamo le risorse, dovete darci il denaro. 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 Dice che c'è un bordello davvero. 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 Dice che c'è un bordello davvero 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Facciamo retromarcia, cerchiamo di aprire un barco, riuscita alle spalle della piazza. Cerchiamo di aprire un barco, cerchiamo di aprire un barco. Grazie a tutti! 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 Grazie per cellulare! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.